Buonasera, sono le ore 21. Buonasera, sono le ore 21, un ben ritrovante dallo studio centrale di TV6 per questo nuovo numero di replay. Continua la crisi del Pescara, è arrivato il sesto allenatore in 12 mesi, si tratta di Gianluca Grassadonia che sostituisce Roberto Breda. Insomma il waltzer su quella panchina bianco-azzurra continua. È stato detto tutto il contrario di tutto, è stato scritto tutto il contrario di tutto, ma soprattutto è stato fatto tutto il contrario di tutto. In questo momento da ricordare in maniera negativa, un momento che dura da due anni nell'ambiente del calcio pescarese. Fare calcio in questa maniera con molta improvvisazione, senza progettualità, soprattutto senza competenze, si rischia davvero di precipitare. Si cerca l'ultima speranza, fidando la squadra a Gianluca Grassadonia che sarà affiancato da due bandiere del calcio pescarese come Ugo Campagnaro e Marco Sansovini. Mancano 15 partite alla fine e analizzeremo anche questo momento con il terzo allenatore della stagione, dopo Oddo e Breda, tocca Gianluca Grassadonia. Saluto Andrea Costantini qui in postazione, buonasera Andrea, ci sono posticipi questa sera? Sì, in Serie A subito gol al Bentegodi, nel posticipo appunto della massima serie. Parma in vantaggio a Verona contro Lellas, rete di Cucca sul rigore. Tra poco il derby tutto calabrese al San Vito Marulla tra Cosenza e Regina. La gara sta per avere inizio. A te. Ringrazio Maurizio da qui in regia e vado a salutare i primi ospiti di questa puntata. Sono i colleghi in ordine Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, Totò Deleonardi sul suo fianco, ben rivisto. Giù abbiamo Paolo Toro, buonasera Paolo. È al suo fianco Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Ovviamente parteciperanno altri ospiti nel corso di questa puntata. Allora vi chiedo subito cosa pensate di questo nuovo avvicendamento. Il sesto allenatore in 12 mesi. Più tardi vedremo una tabella per la gestione della Delfino Pescara. Quindi negli ultimi 12 anni si sono avvicendati 17 allenatori. Solo 4 volte non si è cambiato l'allenatore durante il campionato. È una vidiata che vi proporremo più avanti. Allora cosa pensate di questo cambio in panchina dopo l'ultima sconfitta con il Venezia? Iniziamo subito da Totò Deleonardis. Ma che pensare? Fino all'altro ieri è il momento della rabbia, della rabbia assoluta. Adesso resta giusta la speranza. Credo che non ci sia altro. La speranza che questa squadra che ha deluso tutti, non solo sottoscritto ovviamente, come dice la classifica, all'improvviso diventi una squadra. La speranza che appunto il campionato sia ancora abbastanza lungo per rimontare. La speranza che il nuovo allenatore si riveli l'allenatore più sottovalutato d'Italia e che diventi una sorpresa. Perché ovviamente il curriculum suo è quello che sappiamo tutti. Un allenatore che ha avuto poche occasioni, ma ha avuto anche pochi successi. Però capita, capita che a volte il calcio è così strano che le cose possono cambiare. La speranza è pure che so che il nuovo staff con questi due strani tutor affiancati al nuovo tecnico, cioè Campagnaro e Sanzomini, i due bandieri, si rivelano veramente efficaci che possono portare. Quindi è soltanto speranza. Speranza che poi da controllare di partita in partita, già da venerdì col prosinone. Quindi è l'unica vera speranza. Non ci sono motivi tecnici, altri, che possano autorizzare un pizzico di ottimismo. Ecco, prima di sentire il parere degli altri, Andrea, oggi Grassadonia ha guidato il secondo allenamento, giusto? Oggi Grassadonia è stato in campo, a un certo punto ha guidato una parte del gruppo, non tutto il gruppo, perché una parte dei giocatori, soprattutto i difensori, sono stati presi da Ugo Campagnaro, che li ha portati in un altro campo. Campagnaro ha allenato soprattutto l'uscita palla, quindi come affrontare il pressing della squadra avversaria, come uscire con il fraseggio tra i difensori, tra i centrali, con la collaborazione evidentemente dei quinti. Quindi è stata una fase piuttosto intensa, almeno 15-20 minuti, nei quali Campagnaro ha curato soprattutto la fase difensiva, ma in particolare l'uscita palla. Dall'altra parte, poi Grassadonia ha proseguito il lavoro con il vice, Felice Mancini, confermato nel ruolo, e con l'altro collaboratore tecnico, l'altra bandiera, il sindaco Marco Sansovini, con centrocampisti e attaccanti. Bene, allora, Francesco, la scelta di Grassadonia, cosa ne pensi? Dimmi tu, intanto se ti aspettavi l'esonero di Breda, mi sembra quasi scontato dopo l'ultima sconfitta. Era scontato, qualcosa si doveva fare, come si vuol dire, in casi del genere, che puoi fare, tra l'altro con il mercato chiuso e con tutti gli ultimi arrivi. Cambiare l'allenatore. Non credo che ce ne fossero molti disposti a venire a Pescara. Posso anche sbagliare, ma vado intuito, un attore come Rastelli, che magari ultimamente non ha allenato, però ha un curriculum che gli permette magari di sperare, se dovesse esserci una chiamata, di una squadra con una posizione migliore. Credo che non ci sia molto da aggiungere a quello che ha detto Totò. C'è solo da sperare che dove hanno fallito altri, Grassadone ci riesca. È un po' quello che dissi quando era arrivato Breda, che tra l'altro nella sua carriera qualche miracolo, tra virgolette, a salvare qualche squadra c'era riuscito. Evidentemente, nemmeno chi è abituato a qualche miracolo è riuscito a migliorare per un lungo periodo, dopo quello iniziale, una squadra come il Pescara. Perché purtroppo il Pescara è una corsaglia di giocatori messi insieme. Così, ripeto, io mi auguro che di colpo succeda tipo miracolo. Come dice Totò, c'è solo da sperare in quello che non si è visto negli ultimi due anni, perché non ci rivediamo che l'anno scorso è andata come è andata. E' eccezione fatta per il finale, io parlo per la stagione, i lunghi mesi di sofferenza. La stessa cosa è pure quest'anno. Riccardo, e poi sentiamo Paolo Toro, ti aspettavi, va bene, la decisione del cambio di allenatore, ti aspettavi questa scelta? La scelta della disperazione di una squadra che nelle ultime partite è andata in campo tanto per onorare il fatto che devono giocare. Una squadra che è veramente inconcludente, ha fatto una prestazione pessima e a questo punto la società, dopo aver fatto l'allenatore un punto nelle ultime sei gare, ha deciso di cambiare l'allenatore. Ma, ripeto, il problema secondo me non è tanto allenatore, perché se abbiamo cambiato così tanti mister e il risultato è sempre lo stesso, secondo me c'è qualcosa da cambiare anche all'interno, proprio secondo me della gestione di questa squadra, perché non si può cambiare Oddo, Breda, adesso D'Assedoni e comunque non riusciamo a tirare in porta, questo è il punto fondamentale. Caspita, arriverà l'allenatore che farà uno schema per farci andare a fare un gol, invece credo che proprio il problema sia all'interno proprio dello spogliatoio, dello spogliatoio intendo dire della squadra, non perché litigano, perché forse mancano le giuste motivazioni, forse manca… non so cosa dire, perché quando io vedo delle prestazioni così disarmanti, è il termine esatto, uno rimane e dice ma perché? Cioè che cosa non va? Guarda, ieri ho visto il cane… Il tuo perché qual è? Il tuo perché qual è, Riccardo? Eh, non lo so, probabilmente c'è qualcosa… Credo, non vorrei essere… Servirà, serve un pugno duro, un pugno duro verso altre determinate persone, pugno duro vero, cioè non so se da parte della società o da parte del mister, ma chi non si impegna, via, tribuna e basta. Sì, Francesco. Scusami, in 5 secondi adesso ti hai chiesto in quel modo a Riccardo, lo ascoltavo con attenzione, io credo che il male maggiore sia nella costruzione della squadra, faccio un solo nome e un esempio solo, che significato ha riprendere Capone dopo che era stato qui a Pescara? Ha dimostrato di avere grandi qualità, ma di non essere… Scusami, Francesco, c'è una novità da Riggio Calabria, Andrea? Sì, c'è un calcio di rigore per la Regina, fallo in area di rigore e di corsi su Foloruncio, dunque tra poco il tentativo di trasformazione. È una partita che ci riguarda da vicino per il discorso a salvezza, prego Francesco. Concludo, ossia riprendere Capone, lo si era visto, giocatore con grandi qualità, discontinuo, una la gioca e dici no, tante volte è sembrato anche svogliato, nella prima esperienza l'abbiamo visto qui. Quindi quando io costruisco una squadra, qual è la spiegazione tecnica del riprendere Capone? Non è che uno adesso vuole criticare, perché è meglio che ricordiamo, prima di Capone ci sono altri problemi più evidenti, sempre grazie… Capone non ha reso, ma prima di Capone ci sono tante criticità molto più evidenti. Faccio un esempio, il primo che mi viene in mente, che potrei fare un elenco di almeno 20 giocatori inutili da prendere, perché si sapeva che erano più danconosi che utili. Posso fare un'aggiunta? Un'avventaggio della Regine Enrico, menesso sul calcio di rigore. Regine in vantaggio, grazie Andrea. Paolo Tori, il tuo perché legato al discorso che faceva Clinko quale può essere? Perché questa squadra non sembra una squadra, encefalogramma piatto, non riesce a dare un'idea di gioco in campo? C'è un perché dal tuo punto di vista? Ma guarda, un perché, forse uno solo no. Io credo che le colpe siano un po' da tutte e tre le parti, società, guida tecnica e squadra. Parliamoci chiaro, per fare un parallelismo come con i giorni nostri, Pescara è in una zona rossa dalla quale difficilmente riuscirà a uscirne e non si sa quando. E il tempo purtroppo è una risorsa preziosa che viene contro alla squadra. Io penso comunque che le responsabilità, veramente delle responsabilità importanti le abbia sicuramente anche la guida tecnica, perché quando un allenatore prende la squadra, viene e ne valuta le componenti e quindi si fa un'idea di quello che può dare e quindi poi è libero di accettare o di non accettare. Io penso che gli allenatori che sono venuti siano venuti anche perché abbiano prima, di venire, abbiamo riscontrato il valore tecnico della formazione. Ricordiamoci, secondo me, che un po' di allenatore l'ho fatto tantissimi anni fa e la funzione gestionale dell'allenatore, il carisma che deve avere, i principi giusti e le corde che deve saper toccare, sono dei fatti fondamentali. Se un allenatore, questo non voglio dire che adesso la colpa è tutta, però una buona parte, secondo me, dipende anche dalle guida tecnica. E poi è anche vero che chiaramente la squadra, 30 persone, 30 giocatori, quindi peraltro male assortiti, quindi peraltro si creano sempre dei malumori, quindi è tutta una cosa messa insieme che non regge e che va avanti da diverso tempo. La responsabilità del giusto tecnico, secondo me, invece ha comunque un peso forse un po' superiore a tutte le altre componenti. Speriamo che con questo innesto, che sarà per forza l'ultimo, io credo, perché poi non ci saranno più prove di appello, speriamo che con questo si riesca finalmente a invertire una rotta, perché l'effetto Brede è durato 3-4 partite, poi solo episodicamente, ma a quei ritmi così episodici non si arrivava da nessuna parte, quindi a questo punto la decisione di cambiarlo è stata, secondo me, inevitabile. Allora, posso aggiungere una cosa? Scusa Enrico, una cosa, non dobbiamo mai dimenticare che il Pescara in 21 partite ha schierato 38 giocatori, ne mancano due, cioè Basit e l'attaccante che è arrivato adesso, diventano 40, tutto questo in 21 partite. Mi spiegate che caccia di squadra è stata costruita? Sì, l'allenatore, quello che volete, ma 40 giocatori per fare 21 partite di Serie B, mi dite come si fa a fare una squadra? Non solo, le 21 partite sono state tutte giocate con una formazione diversa da un giorno e da una domenica all'altra, da una settimana all'altra. Quindi di che stiamo a parlare? Del nulla. Cioè che parliamo dell'allenatore, è una gestione fallimentare, quindi devi solo sperare che cambia, che succede qualcosa, il miracolo nel calcio esiste... Allora, con 40 giocatori che squadra fai? Che squadra vuoi fare? Dai, non scherziamo tu. Paolo vuoi replicare? Paolo vuoi replicare? Eh, guarda, non ho sentito adesso... No, ho detto solo che con 40 giocatori non fai nessuna squadra, questo l'ho detto, Paolo, scusami. Paolo, questo è vero. E questo è l'errore che ha fatto la componente società. Poi ci sono i giocatori e poi c'è anche l'allenatore, che può essere pure... Se vede che è un gruppo numericamente mal assortito, numericamente è troppo allargato, e mica... anche lui allora fa una scommessa. Cioè io dico, un tecnico che è professionalmente preparato, se non se la sente, dice alla società... Bene, intanto vado a salutare il primo ospite, l'agente dei calciatori Alessandro Alberti. Buonasera Alessandro. Buonasera Enrico, buonasera a voi tutti i ospiti. Ciao Alessandro, ti chiedo subito, perché ovviamente la serata puoi immaginare, non è tranquilla come ovviamente nulla è tranquillo in questo momento. Mi dici subito, in una classifica di responsabilità, chi mette al primo posto tra società, anzi tra proprietà, direttori, allenatori e giocatori. Non è un giochino, ma d'altronde nel calcio... Ovvio la risposta che mi posso dire... Credo che le responsabilità si debbano condividere al 33% di tutti. E' una risposta, scusami Alessandro, un po' diplomatica, non solo da parte tua, da parte di tutti. Te lo dico con grande, la responsabilità va divisa al 33% per tutti, perché le dinamiche del Pescara partono dal vertice che è la proprietà, e a cascata per tutti i sottoposti evidentemente del Presidente. I due direttori sono due persone assolutamente capaci, che non appaiono mai, e automaticamente la cascata va a finire ai giocatori, che a mio avviso nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, hanno forse una percentuale maggiore di responsabilità. Io non individuerei in questo momento un singolo responsabile e gli altri hanno delle responsabilità minori. Credo che siano veramente tutti legati da un unico destino e in qualche modo un po' tutti legati a determinate tipologie di dinamiche che si vivono a Pescara. Io non mi vergogno a dire che più volte mi sono espresso in certi termini e ho detto che i giocatori a Pescara devono fare i giocatori, ma se i giocatori a Pescara automaticamente non fanno i giocatori perché hanno un filo diretto con il Presidente, evidentemente anche il Presidente ha le sue responsabilità, come pure i direttori che sanno quello che succede e vogliono stare in silenzio e non appaiono mai. Quindi sono tutti i responsabili di questa situazione. Ecco Alessandro, tu hai toccato due punti che vorrei analizzare con tutti voi. Hai detto che i direttori non appaiono mai e i giocatori hanno un filo diretto con il Presidente. Quanto possono pesare queste tue riflessioni? Lo chiedo prima agli altri e poi vorrei sentire la tua versione. Pesano perché in una struttura societaria, io comprendo il rapporto umano, la pacca sulle spalle o quant'altro, però tra il Presidente e i giocatori ci sono i componenti dello staff tecnico, i direttori, il team manager, il club manager, perché in qualche società c'è anche il club manager. Quando vengono bypassate i cuscinetti, le figure intermedie, arriva tutto al vertice e i giocatori non devono arrivare al vertice, devono avere dei filtri prima di arrivare al vertice. Questa è la situazione. E non vi dimenticate, che io l'ho sempre detto e mi prendo anche la responsabilità di quello che ho detto, che in particolar modo l'anno scorso sono stati i giocatori, per quanto mi risulta abolere gli esoneri degli elenazioni che si sono avvicendati. Non si doveva consentire questo, è stato dato troppo potere ai giocatori. Questa è la sacrosanta verità, perché peraltro io dico che questa squadra presa singolarmente è una squadra che non può stare all'ultimo posto in classifica, però poi ci sono delle dinamiche talmente particolari che poi prendono il sopravvento. Quindi a tuo avviso il male più evidente è stato quello di non estirpare un cancro nello spogliatoio? Allora, il tema è che nel Pescara ci volesse l'oncologo, che è una cosa che io ho detto l'anno scorso, era dettata dal fatto che era palese che ci fossero dei soggetti che remavano contro gli allenatori di turno, perché c'era sempre una motivazione tale per il quale Zauri non andava bene, le grottaglie non andava bene, forse non andava bene neanche il ritorno di Pillon, perché c'era il problema del preparatore atletico. Non si doveva consentire di far scegliere i giocatori l'allenatore, questo è stato il problema di fondo. E poi, indiscutibilmente, il fatto che il campionato è finito a Ferragosto crea una scusante, un alibi, perché far mercato in dieci giorni era impossibile, però andava fatto un ripulisti totale. Senti, mettiamo che c'è un fondo di verità in quello che tu dici, perché poi la prova tangibile non c'è, però ad esempio Breda aveva un buon rapporto con i giocatori, però i risultati non sono arrivati lo stesso. È lì, ma ascolta, io mi faccio delle idee, perché peraltro su Pescara ci vivo da 36 anni, mi faccio delle idee in base a quelle che sono le mie sensazioni, le mie emozioni, il mio vissuto, quello che respiro su Pescara e quella che è la mia professione. Hai detto bene, però soprattutto dopo la partita di Ascoli, perché l'appannamento, il calo di tensione dopo l'arrivo di Breda, c'è stato simile a quello che c'è stato nella guida tecnica anche degli altri allenatori. Peraltro dopo la partita di Ascoli, dove sembrava che il Pescara si fosse rigenerato, ci si era esaltati, era rientrato Antec, aveva fatto un'entrata Antec, perché era una partita nella quale la squadra qualcosa aveva dimostrato sotto profilo caratteriale e mi permesi di dire, non so se con te o con qualche altro tuo collega, attenzione, signori, soprattutto relativizziamo la visione di Ascoli con il valore dell'Ascoli guidato da Delio Rossi. E va bene, quella è stata una partita un po' diversa. Sono permesso di dire, mi auguro che non ci sia lo stesso calo che ha avuto il Pescara l'anno scorso, dopo la vittoria contro la Juve Stavia e ci ho preso in pieno. Perché evidentemente secondo te c'erano anche in questa occasione, anche con questa gestione alcuni giocatori che venivano messi ai margini per colpa di qualche altro elemento del stesso spogliatoio. Enrico, non so se è un discorso di essere marginato o meno, questa squadra purtroppo non ha un'anima e non ce l'ha dall'anno scorso, perché io ritengo che sia una cosa inconcepibile… Oppure qualche giocatore pensa di essere leader, ma leader non è. Ma non ci sono dei leader, ma neanche il capitano è un leader. Fiorillo non è un leader perché ha rifiutato di andare a giocare in Azerbaijan. Perché per me non è un giocatore carismatico che trascina gli altri, che poi chiede scusa ai giornalisti o quant'altro. Non è neanche lui un leader perché indossa da sette anni la mano del capitano. Il leader è colui quale ha un ascendente nei confronti dei propri compagni di squadra. Non ci sono leader, o se pensano di essere dei leader, non lo sono. Questa squadra lo dà un'anima, ma tra le altre cose, ciò che mi colpisce, perché poi le partite del Pescara le vedo tutte, tra le altre cose c'è la pandemia che ci costringe a casa. A volte noto delle sfumature sui primi piani. Questa squadra non ha il sangue agli occhi, sono giocatori che non hanno fame. Non hanno fame, sono giocatori che... Ascolta Alessandro, poi tu hai sottossato perché... Ma non è neanche un discorso legato ai prestiti, è un discorso di personalità. Non so come te lo devo dire. Prima hai detto, però poi l'altro problema è che i direttori non appaiono mai. Ma il problema dei direttori che non appaiono mai è perché nel momento in cui i giocatori sanno perfettamente che il ruolo dei direttori viene comunque delegittimato in ultima analisi perché decide tutto il Presidente, è automatico tutto ciò. Secondo me a fianco alla squadra c'è bisogno di qualche dirigente autoritario, autorevole e soprattutto i giocatori non devono più avere l'opportunità di parlare con il Presidente tutti i santi giorni. Questo è il grande problema del Pescara. Però sull'operatività aggiungo che ad esempio Breda è un allenatore... Scusami Andrea. Doppio Regina Foloruncio. Regina 2 cosenza 0. Allora, sull'operatività, ripeto, ha scelto Breda. Bocchetti ha scelto Grassadonia. L'apparire pubblicamente è relativo, bisogna vedere il rispetto del ruolo. Ma bisogna vedere soprattutto una domanda che ti invito a fare. Chiedi ai giocatori del Pescara cosa pensano dei direttori. E lì avrai la lettura di ciò che sto dicendo. Ma perché l'hai chiesto tu, scusami. Eh? L'hai chiesto tu adesso. No, io non glielo ho chiesto solo quello che pensi. No, ma tu stai dicendo cose tutte costruite. Va bene, benissimo. Ma non è che sto dicendo... Ma sì, o dici le cose o non le dici. Adesso, di chi stanno ha parlato? E dici che quelli parlano troppo col Presidente. Io questa cosa non la so. La sai tu, dilla come l'hai chiesto tu. Ma non la va bene, possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Tu hai detto la tua... Tutto e il contrario di tutto. Io ti dico, caro Antonio, che a mio modo di vedere, perché può essere giusto o sbagliato, credo che una struttura autoritaria come quella del Presidente debba avere un filtro prima di entrarci a contatto. Credo questo. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Ma non lo ho io, sto contando, non capisco il contatto. Questo non lo capisco, scusami. Scusa e insisto. Eh no, non lo capisco. O tu dici chiaramente, l'hai sentito tu, te l'hanno detto, te l'ha detto il Presidente, chi te l'ha detto? O dici le cose come... O no, se ti voglio vedere quello che pensi, la penso in questo modo. Però non sai, non capisco il senso. Sono delle sensazioni. Esatto, benissimo. Sono delle sensazioni, esattamente. Capito, tutto qua. Io credo che uno dei problemi potrebbero essere veramente troppi prestiti di persone, di giocatori che sanno che magari il prossimo anno... Sono troppi, come ve lo devo ripetere. E poi sono tantissimi. È stata costruita male, ricostruita peggio. Allora voi cercate chi sono i responsabili, però il problema è quello. È chiaro come la luce del sole. È stata costruita male, senza seguire quelli che erano gli indirizzi dell'allenatore del momento. È stata ricostruita peggio, senza sentire quelle che erano le disposizioni del nuovo allenatore. Perché l'allenatore che ha fatto sempre il 3-5-2, solo quello sa fare, non è che ha cambiato, ha fatto gli acquisti per cambiare il modulo. Di fatti l'ha fatto una partita e si è tornato indietro. Quindi voglio dire, è stata costruita male, ricostruita peggio. E questo è il risultato. Fine. Voi cercate chi sono i responsabili, se i giocatori parlano del Presidente oppure se non parlano. Ma dai. E chi si è parlato? Ma tu quando dici è stata ricostruita male, ovviamente puntare l'indice è un modo di dire, verso la proprietà, verso i direttori, oppure globalmente è stato fatto un discorso in campagna acquisti negativo? Ma secondo me perché la squadra che si è ricostruita non era quella che poteva andare per Brent. Tanto è vero che Brent, appena finito il mercato, si è sentito in dovere di dover cambiare la squadra in base agli acquisti. Cioè il modulo che ha fatto, il famoso 4-2-3-1, voglio dire. Dopodiché, dopo la mattina, ho detto sbagliato, non sono stato troppo affrettato. Ma dai, ma di chi stiamo a parlare? Evidentemente era stata l'idea di ricostruirla, puntata soprattutto un giocatore di esperienza, che avessero una sostanza diversa rispetto agli altri, per rifondare la squadra al costo dopo. Ed è stata un'operazione fallimentare, perché quelli che sono arrivati sono giocatori che non giocavano da 4 mesi, da 6 mesi, erano infortunati e via dicendo. Per cui è stata peggiorata la situazione. Quindi adesso ti ritrovi a avere utilizzato 40 giocatori e non hai ancora una squadra in banca, ma soltanto 6-17 mattina. Direttamente o indirettamente stai criticando l'operato della proprietà e dei direttori? Certo, certo. Di che vogliamo parlare? Come si costruisce? Dico, allora il tuo pensiero è vicino. Non è che sono gli anziani che hanno detto no, io resto per forza. Il pensiero di Alberti era relativo alla fase iniziale della stagione, quando lui sosteneva era più opportuno, e questo forse l'abbiamo detto anche in tante occasioni, fare piazza pulita. Fare piazza pulita, ma credo che fosse anche l'obiettivo, la prima richiesta che ha fatto Massimo Ombio, altrimenti non fai un progetto biennale, perché che significa? Quindi è stato sbagliato dall'inizio. No, dico, quindi quei giocatori hanno un po' condizionato il lavoro... Ma può darsi, può darsi... Parlo zoccolo duro, per tornare al discorso che faceva Alessandro Adel. Ma sì, ricordiamoci da dove si veniva, cioè da una retrocessione evitata per caso, perché per caso si veniva da rapporti pesanti, che hanno avuto Zauri, che hanno avuto le grottaglie e via dicendo. Scusa, scusa, sento l'audio a scatti. No, secondo me, il punto è che evidentemente... No, sulle valutazioni di Alessandro Alberti ti trovi d'accordo tu Paolo oppure è un'altra idea? Scusa, non ha avuto l'audio stasera? Sì, sì, ho sentito Alberti, no, 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 volevo dire questo, indubbiamente la sensazione che si ha è che la gestione della società è di natura esclusivamente verticistica. Il fatto del non apparire, ma soprattutto nei confronti dei terzi, cioè nei confronti della stampa, nelle riunioni ufficiali del direttore, anche se questi vengono sempre citati dal Presidente, c'è il direttore generale, c'è il direttore sportivo, però poi di fatto si ha la sensazione, perché per me è una sensazione, che comunque rimanga una gestione molto verticistica della società. e perché comunque alla fine è come un imbuto, cioè sì, si fanno magari, si parla, si dice, però poi alla fine c'è sempre un forte condizionamento da parte della proprietà, il che potrebbe essere pure una cosa messa in chiaro, voglio dire, accettabile, ogni società magari può fare. Però la sensazione che si ha è proprio questa, la squadra è vero che è stata costruita, soprattutto che non c'è stata nessuna interruzione, nessuna frattura significativa fra quello che era l'anno scorso e quello che era il nuovo campionato. Ha detto Totò, giustamente, Oddo ha cercato di, però non c'è, ma allora perché l'ha accettata questa squadra? Cioè io questo... Vabbè, hanno problemi suoi, dai, che significa? No, allora, e allora... Ma che ne sai? Ma che ne sappiamo? Totò, Chilo, scusa, Totò, allora facciamo un po' di chiarezza, Totò, stabiliamo che comunque ognuno è libero di dire quello che vuole e non può essere comprendente, però sempre da te. Sono libero pure io di dire come la penso. Sì, però non puoi contraddire ogni versione, Totò, scusa, scusa, non parlo più, non parlo più. No, puoi parlare, ci mancherebbe. Quando mi dici tu parlo. Tu hai dei valori altissimi, di esperienza altissima, però non puoi contrastare sempre il pensiero degli altri, perché tutti i pensieri possono essere sbagliati o rispettabili. L'importante è che ci sia, anche perché non siamo in studio, e anche l'audio non è dei migliori, capisci? Scusami, hai ragione, scusa, scusa. Vai, vai Paolo, vai. Io volevo solo concludo dicendo, appunto, seguendo quello che diceva, appunto, Totò, se è vero che Oddo non avrebbe voluto questa squadra, ma perché ha accettato di allenare? Con tutto poi quelle cose che c'erano state, che l'hanno prima a Perugia, retrocesso, la partita, eccetera. Anche lì, secondo me, quello è stato un passo, secondo me, sbagliato. La società avrebbe dovuto anche lì creare una frattura, cioè rivolgersi subito ad un tecnico che non aveva queste presunzioni di contiguità, che poi non ci stava niente, voglio dire. Però comunque, secondo me, è stato già quello, un primo passo utile da fare. Dopo torno da Francesca e da Riccardo, perché vorrei chiudere questo collegamento con Alessandro Alberti, che ha messo molta carne al fuoco, perché ha toccato punti delicati, come la presenza adesso non è importante se i direttori appaiono o meno pubblicamente sui mass media, dipende dal tipo di lavoro che si fanno. I direttori non è la presenza a livello mediatico dei direttori, ha una valenza relativa. E infatti, sono d'accordo. Così come, voglio dire, sono due professionisti che svolgono il loro lavoro. Ti ho detto io che dall'esterno, la mia sensazione, come dice Paolo, che ci sia sempre un ricorso a saltare queste due figure intermedie e si va a finire sempre sul tavolo del Presidente. Questo è il mio pensiero. Ma tutto ciò non ha nulla di personale nei confronti dei direttori, però è una cosa che si percepisce. Alessandro, scusami, ma questo alla fine, col fatto che la squadra non gioca, non ti ne importa, è demotivata, è molla. Secondo te è per... No, 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 credo che il discorso di Alessandro sia quello di dare molta importanza, scusami Alessandro si è interpretato le tue parole, più al gruppo di calciatori, si dà molta importanza al gruppo calciatori che poi probabilmente nel corso degli anni si sentono anche autorizzati a prendere delle decisioni con l'allenatore di turno e anche ad avere un ruolo in più, cioè quello di decidere se vogliamo il futuro di ogni tecnico, perché quando il giocatore è autorizzato e si sente libero di avere tanta libertà di pensiero, vuole dire che qualcosa è stato sbagliato, credo che interpretassi così il pensiero, Alessandro? Enrico, ti chiedo scusa, ma io non ho sentito nulla di quello che hai detto all'inizio... Sintetizzo, quando fai l'esempio del giocatore che si rivolge al Presidente per qualsiasi motivo, si dà importanza al giocatore che nel rapporto anche con l'allenatore si senta autorizzato anche a chiedere qualcosa di più o a fare qualcosa di più, in pratica la figura del giocatore passa ad un livello superiore anche a quello del tecnico. Ma è proprio il numero della frequenza degli allenatori che si sono avvicendati sul Pescara nell'ultimo anno che mi fa pensare questo, perché io non ho detto che i giocatori non devono parlare col Presidente, non devono avere un contatto con il Presidente, ho detto che mi sembra assurdo che in 12 mesi si cambino 6 allenatori, questa è una cosa conclamata e questo secondo me è il nocciolo della pensione, peraltro nemmeno a fronte di cambi continui di allenatore se ne viene fuori, quindi è un problema radicato questo. D'accordo, Alessandro noi ti ringraziamo per questo contributo, grazie per quanto c'è detto, un saluto da tutto lo studio, diamo la linea in giocità, poi arriveranno altri ospiti, tra poco. Fazzini, Somma, Piumini Down & Step, Materassi Tempo, Dorelan, Simons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro, Materassi e Biancheria, per sognare. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre, il super bonus è difficile da ottenere, lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu Grazie a tutti. DZ Insurance Sport Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport, prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945, in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995, io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara è stata in via Spaventa, nella zona dello stadio triatico. Emilio e Alfredo De Florentis 085 66 021 Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni, in tutta Italia. Realizziamo, per privati ed aziende, lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne per gotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerevestimenti.it Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia a Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Fiat Danelli 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 Dipende chi sono le persone con cui devi lavorare, posso dire che io sia per quanto riguarda Giorgio, che poi è una persona che mi conosce da bambino, sia per quanto riguarda Peppino, per me era solo che un piacere lavorare con loro, perché era anche un modo per confrontarmi, per avere anche un'opinione in più o avere due occhi in più, perché quando si deve scegliere un calciatore o quando si deve individuare un problema per cercare di risolverlo, è normale che se hai una persona a fianco che ha anche tanta esperienza, tu puoi solo che imparare, quindi ho sempre avuto questa predisposizione a collaborare insieme, non ho assolutamente problemi, non sono una persona che è gelosa della politica. Intanto mentre Luca si è fermato un attimo, è entrato un altro Luca, saluto Luca Cilli da Milano, collega di Sport Italia, buonasera Luca, grazie per aver accettato il nostro invito, tra poco ci collegheremo con te. Ciao Erico, buonasera a tutti voi. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Luca Leone stava completando, eccoci direttore. Sì, no ripeto, per me non era un problema, ecco assolutamente, penso che due occhi in più e un'idea in più, secondo me… Basta distinguere le competenze, giusto? Sì, sì, assolutamente. Ma non è un modo per scaricare responsabilità, anche può essere, il rovescio della medaglia, quello di essere in due, di avere meno responsabilità, rispetto al lavoro che stai facendo adesso a te, voglio dire. Però tipo, guarda… È diverso, il modo di lavorare è diverso o no? Sì, però oggi i tempi sono cambiati, non è più come una volta, adesso ci sono tante cose da fare, non è una squadra di calcio oggi, se vuoi essere presente 24 ore su 24 in tutte le situazioni hai bisogno di persone. Se tu vedi in Serie A, ma anche in Serie B, tutti i direttori sportivi hanno due o tre persone, altri due o tre direttori sportivi, perché comunque sia Maldini, c'è anche Richie Massara che si occupa magari di una cosa e Maldini se ne occupa di un'altra. Se vai a vedere Paratici, c'è Federico Cherubini, c'è il fratello Di Chiellini, c'è altre due o tre persone che lavorano sotto di lui. Insomma tu dici meglio un lavoro di equip, no? Luca? Sì, ma perché magari se uno deve andare fuori una settimana a vedere partite, che ne so, in Argentina, in Brasile c'è un'altra persona che sta sul campo a supportare l'allenatore, quindi magari se devi andare a vedere le nazionali, devi andare a vedere le regole di lega. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tutti. C'è bisogno di figure in più, sinceramente. Allora, Leone, un attimo perché tra poco la lasceremo, Riccardo, che vuole inserirsi, Riccardo? Ok, volevo farti una domanda. Dapprima Alessandro Alberti ha detto che il suo pensiero è che nel Pescara i due direttori fanno poco d'affitto. Ti domando, visto che tu hai fatto direttore a Pescara, è vera questa cosa? Cioè, se Galano, invento un nome proprio qualsiasi, fa qualcosa, va direttamente sul tavolo del Presidente o passa per i direttori? Perché è importante questa cosa? Ma io penso che se Galano fa qualcosa, passa per i direttori, ma sicuramente arriverà anche il Presidente in serata. Ma passa e dai direttori? Cioè, esiste un filtro? Ma come no? Penso di sì, anche perché penso che Giorgio sia tutti i giorni a campo, perlomeno quando c'ero io con Giorgio. Io ne sono convinto anch'io, però visto che è stato detto che tutto ciò che succede, uno al comando fa tutto lui, volevo sapere, visto che tu hai fatto parte della società. Ma no, questo purtroppo poi un conto sono le chiacchiere, poi un conto è quello che succede realmente durante l'allenamento o durante, diciamo, la quotidianità, no? Però è normale che tutto passa per il direttore e poi se la cosa è grave arriva il Presidente, ma se è una cosa che possono risolvere i direttori, finisce l'assima del percorso dal direttore. Secondo me, come è giusto che sia, perché se no dipende anche dall'importanza del problema. Sì, adesso non stiamo sottolineando i problemi disciplinari perché lascia il tempo che trovano. Qui parliamo di calcio che è più importante. Vorrei che Luca Cilli salutasse Luca Leone perché tra poco ci lascia. Luca Cilli ha avuto spesso negli studi di Sport Italia anche ospite Luca Leone. Ecco, dall'esterno tu che valutazione hai su questo direttore che adesso si sta prendendo anche delle belle soddisfazioni a Terni. Anzi, stasera lo vediamo proprio con la T-Shirt Unicusano del Presidente Bandecchi. Quindi porta avanti giustamente il discorso di questa squadra prima in classifica. Luca e Luca. Ciao Enrico, buonasera innanzitutto a tutti voi e grazie per l'invito. Con il direttore, tra l'altro, lui può confermare. Ci siamo visti l'ultimo giorno del calciomercato a Milano e ci siamo salutati. Gli ho fatto i complimenti per quello che sta facendo con la Ternana e gli ho detto appunto che ero abbastanza scettico sull'operato del mercato del pescare e soprattutto gli ho detto che secondo me tanti i nostri problemi erano iniziati nel momento in cui lui era andato via. È vero o no direttore? Ci siamo incontrati e ne abbiamo parlato anche. Ovviamente questo... Se non dovesse confermarti il fatto che i problemi erano iniziati dopo... No, no, quello l'ho detto io a lui per carità. Perché lo stimo molto e sono contento che sta facendo bene a Terni. Ciao Luca, ciao, ciao, buonasera. No, lui vuole troppo bene quindi non vale quello che diceva. È di parte. È di parte. Allora Luca... È troppo gentile, è troppo gentile Luca. Luca, c'è la possibilità e poi ti lasciamo di sperare ancora con questo nuovo allenatore a 15 giornate dalla fine? Secondo me sì. Secondo me sì. Come quello che penso, Saburo Antonio, Giorgio è presente. Questo è un campionato lungo e difficile da Serie B e anche imprevedibile. Quindi c'è tutta la possibilità per poter rimediare. L'importante è che facciano tutti quadrato intorno alla squadra. Mi auguro che tutto l'ambiente anche si stringa intorno alla squadra. Perché in questo momento quello che c'è bisogno è solo di un unico pensiero. Quello di potercela fare. Adesso non è il momento di fare chiacchiere o trovare il colpevole. Perché secondo me si perde solo tempo e energia. Bisogna trovare un'unità di intenti e rimare tutti nella stessa barca per cercare e pensare solo al bene del pescare. Che questa è la cosa più importante. Perché trovarla in quella situazione non è bello per nessuno. Specialmente poi in questo momento dove c'è una situazione anche al di fuori del calcio che non è bella. Quindi secondo me questo è anche l'arrivo del nuovo allenatore. e spero che possa dargli un po' di solidità e un po' di qualche sicurezza in più. Quello che ha bisogno del pescare è qualche sicurezza in più. Insomma il prossimo anno vuole venire con la Ternana a giocare all'Adriatico ma in Serie P. Ecco questo è l'augurio più bello che io possa fare questa sera sicuramente. Per tutti. Che vale per me e vale per il pescare. E' certo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un saluto da parte di tutti gli amici. Ti lasciamo. Ciao Luca. Sei nel capoluogo. Grazie a voi. Grazie Luca Leone. E in bocca al Lugo per il tuo campionato. Grazie. Salutiamo Luca Leone. Andiamo in pubblicità e poi andremo avanti l'ultima mezz'ora con gli amici rimasti collegati. A tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti. Non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni ma a costo zero. Info aragoninvest.eu Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'oro a Montesilvano. Oltre mille metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigi, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Temple, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne per gotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerevestimenti.it Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945, in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Triatico. Emilio e Alfredo De Florentis 085 66 021 Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia a Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30. Aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. La concessionaria Fiat Danelli Ora 22 e 7 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6. Andrea Costatini, allora gli aggiornamenti sui campi? Sempre 1 a 1 in serie tra Verona e Parma. È iniziato poco fa il secondo tempo al San Vito Marulla, Cosenza 1, Regina 2. A te. Allora, dopo aver lasciato Luca Leone e con noi collegato da Milano, Luca Cigli. Allora Luca, prima di sentire il tuo pensiero insieme agli altri amici sulla situazione del Pescara, parliamo un attimo di Gianluca Grassadoni. È il sesto allenatore in 12 mesi e la regia ci propone una videata preparata per capire cosa è successo in questi... No, questa è la schermata su Grassadoni, l'altra sugli allenatori che si sono alternati sulla panchina della Pescara nella gestione da Delfino Pescara. In pratica si sono avvicendati 17 tecnici. Partiamo dal 2009-2010 con Cucuredio Di Francesco, poi il 2010-2011 con Di Francesco in serie B, la cavalcata di Zeman, poi i primi esoneri nel campionato di serie A tra Stroop, Bergode e Bucchi, poi Marino e Cosmi nel primo campionato di B, Baroni-Oddo nel 2014-2015, nel 2015-2016 Oddo promosso in serie A, nel 2016-2017 Oddo-Zeman, nel 2017-2018 tre allenatori Zeman e Pifani-Pillon, nel 2018-2019 Pillon che ci porta alla semifinale play-off, lo scorso anno Zari, Le Grottaglie e Sottili e quest'anno Oda, Oddo, Breda e Grassadonia. Solo quattro volte non si è cambiato allenatore in 12 anni. Luca Cilli, vedendo questo prospetto, cosa ti viene in mente? Che spesso sono state sbagliate le scelte a monte, che poi è il problema, il grande problema di questa stagione, che è una società che spesso non è riuscita ad abbozzare anche una minima programmazione, perché io penso che nel mondo del calcio la parola programmazione è abusata e anche i grandissimi club non possono programmare più di tanto. Però i club di serie B devono essere talvolta lungimiranti ed il Pescara non sempre lo è stato. Sono state sbagliate tante scelte, soprattutto iniziali, all'inizio delle varie stagioni e anche quest'annata secondo me è partita con il piede sbagliato, perché si doveva fare tesoro degli sbagli commessi nell'annata precedente che è stata salvata veramente per il rotto della cuffia e invece non ha insegnato nulla, anzi si è fatto peggio. Purtroppo quando sbagli le scelte iniziali poi le paghi, può andare bene una volta, può andare bene due, può andare bene tre, alla quarta poi paghi tutto con gli interessi. E purtroppo questa è un'annata nata male e che rischia veramente di finire peggio. Secondo me, Enrico, rispondendo alla tua domanda, all'origine c'è la mancata minima programmazione e soprattutto la capacità di scegliere soprattutto l'allenatore giusto. Vorrei sentire il pensiero anche degli altri amici partendo da Paolo Toro, in sequenza poi Totò, Francesco e Riccardo. Paolo Toro. Sì, ovviamente, chiaramente, ovviamente i campionati migliori sono quelli nei quali c'è stato un solo allenatore dove si sono ottenuti i risultati migliori, ma questo è un fatto ovvio. Però quello che salta gli occhi è il fatto che in alcune circostanze effettivamente forse ci siano state delle scelte inadeguate all'inizio, per esempio il primo anno di Stroppa quando siamo andati in Serie A. Anche lì Stroppa mi sembra che era un esordiente nella categoria e non si è programmato adeguatamente, ce lo ricordiamo tutti, un lavoro per poter cercare di conservare la categoria, così come quando ci siamo tornati la volta successiva. Un'altra scelta forse un po' avventata, che era una scommessa, poteva andare bene, ma di fatto non è stato così, è stata quella di Zauri dell'anno del 2019-2020, che poi è da lì che sono cominciati tutti i problemi che ci stiamo trascinando finora, perché non c'è stata nessuna interruzione. Quindi, come diceva giustamente Luca, molte volte sono state le impostazioni iniziali che non sono state adeguate o alla categoria o al progetto, al programma che si voleva intraprendere. Francesco? Vabbè, balza agli occhi questa serie di errori. Prima qualcuno ha detto, per dire che poi sono state sbagliate le scelte degli allenatori, di più delle volte, però soprattutto alla base c'è la scelta sbagliata nella costruzione della squadra. Prima qualcuno ha detto che Breda... Francesco, scusa, adesso ti ho subito la parola. Francesco, perdoniamo. Voglio solo però sottolineare che negli ultimi due anni è stato fatto un disastro, però in precedenza, nonostante questo waltzer di allenatori, il Pescara ha vinto due campionati di Serie B, è arrivato una volta in finale play-off con Oddo al posto di Baroni e una semifinale play-off con Pilon. Sono risultati importanti, quattro campionati di B quasi vincenti. Poi c'è stato anche un anno rischioso con Marino Cosmi, un altro anno rischioso con Zeman e Pilon. Le ultime due stagioni sono quelle che ovviamente ci stanno dando grosse, grosse preoccupazioni. Prego, Francesco. Stavo dicendo l'errore nella scelta in alcune occasioni, per fortuna non in tutte, perché ci sono molti anni più che luminosi da parte del Pescara e quindi nelle scelte fatte da Sebastiani e da tutti gli altri. Breda ha buoni rapporti con i giocatori, li ha avuti, ci sono stati, eppure la squadra non ha resto dopo quelle fiammate iniziali. Perché? Mi verrebbe da dire che è abbastanza semplice, perché la squadra è debole, con troppi giocatori non all'altezza. È stata costruita malissima, arriviamo sempre al solito problema. determinati giocatori che andavano presi in estate sono stati presi quest'anno, per fermarci al marasma di questa stagione, è inutile che parliamo degli anni passati, sono stati presi a gennaio. Io quando un paio di trasmissioni fa ho azzardato a dire Sorensen ha giocato poco, quell'altro qua ho sbagliato solo nel dire che aveva giocato poco De Sena, ero sbagliato, ma sembrava che non era vero. Ossia, i giocatori che appena arrivano a pescare si fanno male e poi per due o tre mesi non se ne parla. È proprio nella scelta dei giocatori. Uso adesso un paragonico urinario, e poi taccio, fare una macedonia è abbastanza facile, perché ci vogliono quei 4, 5, 6, 7 tipi di frutta, 8 tipi, secondo me come vuoi fare? Benissimo, ma se io metto soltanto le mele, le banane e i kiwi e presento una macedonia, che però fa schifo. Va bene, allora, Toto, purtroppo è così, è stata presentata una squadra che ha questo punto. Sì, sì, non discuto sulla macedonia, per l'amor di Dio. Sì, sì, lo so. Scusami, volevo concludere. Dando uno sguardo, scusami Francesco, Sottotolo dando uno sguardo a questo lungo elenco di allenatori, perché poi le stagioni sono andate come tutti sappiamo, nel bene, nel male, ma negli ultimi due anni c'è stata questa difficoltà di fare calcio come in passato. Cosa è successo? Torniamo sempre al solito discorso. Sì, sono state sbagliate le scelte dei giocatori, la campagna acquisti, ma c'è dell'altro secondo te? Oppure è un biegno dove tutto gira storto? Ah no, secondo me, credo all'origine sia sempre... Oh scusami, Tottolo, oppure è finito il ciclo di quei giocatori sui quali il Pescara punta ancora, puntava ancora e che probabilmente non rendono più come qualche anno fa. a mio avviso all'origine di male o delle fortune di una società e quindi in una squadra ci sia il modo o la costruzione di una squadra. Cioè, voglio dire, al di là di quelli che possono essere i valori degli allenatori di turno, il problema è di avere chiarezza sulla squadra che si vuole costruire. non è un caso insomma, le migliori stagioni sono state quelle in cui se partite con un programma chiaro vuol dire anche che dire l'anno di Zeeman non era una squadra costruita per vincere però c'era l'idea di costruire quel tipo di squadra. La stessa cosa è successo l'anno di Oddo l'anno di Oddo la seconda stagione di Oddo quella della promozione è stata costruita una squadra che giocasse in un certo modo che avesse quelle caratteristiche e che poi sono state valorizzate sia con Zeeman che con Oddo grazie alla qualità dell'allenatore di turno. Questa cosa strada facendo è stata non a caso le stagioni più fallimentari sono state quelle due serie A quelle del dopo Zeeman e quelle del dopo Oddo in cui sono state costruite delle squadre senza 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 capacità senza avere un progetto un programma di come mettere le squadre. ed è quello che sta capitando sempre di più in questi ultimi ultimi anni. C'è stata l'eccezione Pilon perché Pilon non era allenatore che si voleva costruire quel tipo di squadra e lì secondo me è stato bravo l'allenatore a costruirsi a ritagliarsi a ritagliarsi questa squadra che non dava spettacolo che però era l'immagine che gli dava allenatore. Quello che non è successo poi negli ultimi due anni abbiamo visto questa squadra cambiare dieci volte moduli a seconda dell'allenatore che passava di turno voglio dire una squadra senza identità dall'inizio alla fine non può avere un futuro e questo è il dramma vero e qui l'errore di costruzione voglio dire ovviamente chiama in calcio prima persona la società non so sentivo delle voci chi voleva intervenire? volevo dire una cosa Riccardo io non sono d'accordo perché la stagione con Luciano Zauri era partita benissimo se la società al posto di licenziare Luciano mandava via quelle 3-4 teste calde che sono andate da sole farmi terminare ti prego probabilmente non prendavamo come si chiama il ragazzo quel lì non mi ricordo neanche il nome di quello belloccio le lotaglie non prendavamo il soldi le contavamo con Zauri che era l'allenatore giusto stesso discorso per Osgo se tu prendi Osgo lo devi difendere fino alla fine e andare avanti perché non puoi perché sbagli due partite prendere Breda sbagli due partite adesso poi nella Sedonia e poi due partite i piani di Pescara secondo me è partito bene con Zauri e bene con Osgo poi Osgo è stato un po' sfortunato però bisognava dare tempo tempo per poter fare ma nessuno nasce che arriva e in 5 minuti a una squadra una piccola replica scusami Enrico veloce totò perché devo stendere io non sto discutendo sto discutendo della costruzione di una squadra perché anche quella di Zauri era stata costruita ma come ben hai detto tu per tutta la stagione nel senso che c'erano giocatori che non ci dovevano stare l'errore è quello di come non dei risultati che hanno tenuto gli allenatori di turno è stata costruita male l'anno di Zauri che poi ha creato problemi soprattutto a Zauri e così l'anno di Roddo quest'anno in cui è andato male soprattutto a Oddo quindi è stata io dico che è stata costruita male e questo è il problema allora Luca Cilli la scelta di Grassadonia come la vedi? Enrico la vedo la vedo come la carta della disperazione è stato preso un allenatore che non ha fatto bene negli ultimi anni che era fermo da un po' e che probabilmente era l'unico che poteva accettare una situazione disperata non la vedo bene non ho fiducia in questo allenatore non ha fatto bene nel corso della sua carriera però ripeto in questa situazione ecco prima Maurizio Pagui ci ha proposto una videata con tutto il percorso degli ultimi anni di Grassadonia è un percorso lungo diciamo gli ultimi anni a Catanzaro è stato esonerato a Foggia in due circostanze dalla prima alla quindicesima giornata poi dalla 29esima alla 38esima retrocessione prima con la Provercelli in Serie B anche lì in due fasi retrocessione e vorrei a tal proposito coinvolgere proprio Andrea Costantini che ha dei precedenti di Grassadonia con il Pescara sì peraltro a Corredo abbiamo anche delle immagini tre volte Grassadonia ha affrontato il Pescara proprio nelle due esperienze in Serie B andata in ritorno quando lui era allenatore della Provercelli risultato speculare perché all'andata ci fu la vittoria del Pescara per 3 a 1 in quel caso c'era Zemano sulla panchina del Pescara questo è il match di ritorno che iniziò con l'espulsione di Crescenzi e poi la partita si complicò per il Pescara che andò sotto per effetto di questo calcio di rigore ci fu poi il pareggio di Macin e poi la doppietta di Raicevic nel finale Grassadonia poi ha rincontrato il Pescara nell'anno successivo nel corso dell'inizio della stagione nel mese di settembre Pescara-Foggia Pescara di Pillon contro il Foggia di Grassadonia in quel Foggia c'era Galano che si procurò un calcio di rigore per fallo di Macin Mazzeo fallì il calcio di rigore queste sono le immagini relative a quel fallo Mazzeo fallì il calcio di rigore e poi nel finale il Pescara che aveva sofferto tremendamente l'organizzazione di gioco del Foggia di Grassadonia riuscì a vincere con un colpo di testa di Gravion proprio nel finale qui l'assist di Memushai e il gol di Gravion e questa partita diede là poi alla splendida cavalcata d'inizio stagione del Pescara di Pillon quel Foggia era penalizzato di otto punti sarebbe subentrato Padalino a Grassadonia dopo qualche mese poi sarebbe tornato a Grassadonia ma il Foggia era retrocesso lo stesso e in quel Foggia c'erano Busellato e Galano e Iemmello per dare a Cesare quel che è di Cesare per restare in cronaca di Grassadonia nelle zone ero a Vercelli che poi fu richiamato basta andare a leggere le cronache sui giornali di quel periodo furono altri motivi non tecnici perché Grassadonia fu esonerato e poi visti i risultati di chi era subentrato al suo posto fu richiamato e non riuscì a ottenere la salvezza non fu una questione tecnica di risultati si si è fatto bene a sottolineare questo Andrea tu hai anche un'immagine di Grassadonia quando vinceva il Pescara un'immagine relativa subito dopo il terzo gol della Pro Vercelli contro il Pescara in quel match di ritorno del campionato 17-18 che abbiamo ricordato un'espressione che vorremmo vedere sulla faccia di Grassadonia di qui a breve come dire ragazzi tranquilli ci penso io sarà tutto sarà tutto semplice questa è la sua espressione dopo il terzo gol della Pro Vercelli contro il Pescara gol di Rajcevic Luca si accorgi i giocatori che c'ha Grassadonia perché gli allenatori che arrivano restano un po' stupite dalla posizione in classifica del Pescara vedono probabilmente la carriera di tali elementi pensano come si fa a retrocedere con Val di Fiori con Galano con Macin con quello e quell'altro e poi il campo però ci dice qualcosa di diverso il campo dice purtroppo qualcosa di diverso Enrico ma tanti tanti sbagli sono stati commessi perché comunque questa era una squadra da rivoluzionare totalmente in estate e non è stato fatto e coloro i quali sono arrivati probabilmente sono grandi calciatori dal punto di vista del curriculum e sono molto forti per la categoria però tutti quanti hanno dei problemi magari chi non gioca da tempo chi ha bisogno di tempo per recuperare anche il mercato di gennaio sinceramente a me personalmente non è che abbia convinto più di tanto servivano determinati innesti non sono arrivati sono arrivati i giocatori che hanno bisogno di tempo per tornare in forma che giocavano poco e il tempo adesso non ce l'hai serviva un attaccante l'attaccante secondo me non è arrivato perché io Odgaard non lo considero un giocatore in grado di poter fare la differenza lì davanti noi l'abbiamo seguito spesso perché lui era l'attaccante dell'Inter primavera e già lì si vedeva che insomma si grande movimento però gol molto pochi specialmente per una squadra che si deve salvare come il Pescara sicuramente non è l'elemento in più Sorensen altro grandissimo curriculum però dispiace dirlo ma guardandolo giocare ha avuto tanti problemi però veramente sembra un ex giocatore con tutto il rispetto quindi quindi Enrico si grandi curriculum però poi all'atto pratico probabilmente non sono arrivati nel loro momento migliore questo è uno dei tanti problemi del Pescara c'è Andrea che vuole chiederti un qualcosa tanto saluto Luca poi sullo staff tecnico di Grassadogna ci sono delle conferme come i vari Petrarca Labricciosa Gessa Team Manager Guido Nanni che è rimasto come preparatore dei portieri Felice Mancini come vice allenatore ci sono però due innesti davvero importanti due giocatori che hanno fatto la storia recente del Pescara parlo di Ugo Campagnaro e Marco Sansovini ecco che cosa pensi di questo inserimento nei quadri della prima squadra sono collaboratori tecnici allenavano le giovanini Under 16 Sansovini Under 17 Campagnaro campionati peraltro bloccati a causa del covid e ora promossi in prima squadra al fianco di Grassadogna mi dà più garanzia la presenza di Marco Sansovini a Ugo Campagnaro che non quella di Grassadogna e ti spiego anche perché perché Sansovini conosce l'ambiente ed è attaccatissimo alla maglia ed è uno che veramente ha dato il cuore per il Pescara idem Ugo Campagnaro che da giocatore ha vissuto anche spogliatoi importanti e possono far capire a tanti giocatori che in questo momento vivono nello spogliatoio del Pescara cosa significa il Pescara per i suoi tifosi e sicuramente possono dare quel qualcosa in più anche alzando la voce secondo me questa è stata una scelta che ci può stare mi auguro che possano fare qualcosa anche loro perché uno dei problemi principali ripeto io non sono nello spogliatoio del Pescara però vedendolo dall'esterno secondo me il problema dello spogliatoio c'è esiste è reale non è un caso che anche Oddo che ha fatto male secondo me che non andava ripreso però comunque qualche attenuante ce l'ha anche lui aveva chiesto comunque un Repulisti idem Zauri se due allenatori su quelli che sono passati negli ultimi tempi chiedono determinate cose significa che probabilmente la sensazione che abbiamo noi all'esterno ce l'hanno anche gli addetti ai lavori e questa è la cosa preoccupante secondo me Sanzovini e Campagnaro possono essere dei valori aggiunti anche soprattutto da questo punto di vista perché secondo me in uno spogliatoio con poca personalità pochissima personalità servono come collaboratori tecnici due bandiere del Pescara e due persone che possono far capire a coloro i quali non stanno dando il massimo che bisogna dare il massimo senza tirare indietro la gamba almeno questo me lo auguro e lo spero per il Pescara l'ultima domanda un po' a tutti si può sperare solo perché mancano ancora 15 giornate partiamo da Francesco sì solo perché me lo prendo io il primo ruolo solo perché mancano 15 ci sono ancora 15 partite perché diciamo allora quindi un miracolo è quello che abbiamo detto all'inizio un miracolo non c'è retrocesso l'anno scorso il Cosenza era già retrocesso fu capace con quel finale di stagione con un cambio lì di allenatore che veniva dall'interno della società a fare quello che ha fatto anche il Trapani anche il Trapani fece una grande rinunca anche il Trapani fece una grande rinunca deve pensare play out allora vedendo la classifica attuale con l'eventuale successo della regina a Cosenza vediamo cosa cambia in fondo perché non so se è aggiornata penso di sì la regina addirittura sale a quota 28 in classifica e la zona play out è del Cosenza con 22 punti della Cremonese con 23 quindi siamo a 5 punti dal Cosenza e a 6 dalla Cremonese e in 15 giornate si possono recuperare i 5 punti se si sveglia Totò la speranza è questa l'unica? no l'unica cosa come abbiamo aperto la trasmissione è la speranza che non è che non è logica voglio dire quindi la speranza è di tutti voglio dire anche è l'unica cosa io non vedo altre cose perché quando le volevo aggiungere una cosa sul contributo di Campagnare e Sansovini io non credo che possano servire per lo sfogliatoio sarebbero due guardiani non so che ruolo invece credo che potrebbero essere molto utili se utilizzati sul piano tecnico ho sentito che Campagnaro ha curato la fase difensiva e credo che per la fase difensiva Sansovini sia l'ideale cioè se le loro funzioni sono soprattutto tecniche di supporto all'allenatore possono essere secondo me molto utili poi però è chiaro è tutto da vedere e soprattutto da sperare Paolo Toro sì niente sperare che venga finalmente ricostituito un gruppo soprattutto dal punto di vista umano psicologico non so se Grassadonia ce l'auguriamo possa essere lui la persona giusta e fare quello su quale finora altri magari hanno fallito il pescato deve cambiare passo ma lo deve cambiare subito perché oggi come batte il calcio d'inizio ha già quasi due gol da recuperare secondo le medie che girano per cui voglio dire il compito non è assolutamente facile deve essere ricostituito un gruppo e individuare bene anche ovviamente l'assetto tecnico cercando di tirare fuori veramente il meglio dai migliori Riccardo grazie Paolo Riccardo scusate se vado di fretta guarda un grande film del 74 di Aperto Sordi era finché c'è guerra c'è speranza se vogliono fare la guerra abbiamo qualche speranza se non fanno la guerra è finita Andrea prima di salutare Luca Cilli oggi il tecnico ha rispolverato Galano ovviamente è un suo uomo che è conosciuto quindi potrebbe essere questa la prima novità sì diciamo che anche Drudi in difesa mi dicevi Grassadogna sta lavorando in continuità sul modulo 3-5-2 anche lui Galano potrebbe giocare da punta accanto di uno tra Odgaard e Setter un'altra novità importante potrebbe essere l'impiego di Macin da mezzala chiaramente con compiti offensivi ma da mezzala con magari Valdifiori in regia e uno tra Bussellato e De Sena Bussellato ci sembra il momento favorito anche perché è un giocatore che anche lui è stato allenato da Grassadogna nel Foggia quindi queste sono alcune delle novità in difesa bisogna vedere quelle che sono le condizioni di Drudi che sta migliorando Sorensen oggi si è allenato a parte e bisogna anche valutare le condizioni di Bocchetti che non sono condizioni ottimali i prossimi giorni ci diranno se Bocchetti potrà o meno recuperare e poi l'esordio venerdì sera ricordiamo la loro eventura Frosinone si ritroverà di fronte quel giocatore che corrisponde al nome di Iemmello che nel suo Foggia non è riuscito a fare il miracolo Luca Cilli per chiudere venerdì si torna in campo contro il Frosinone di Nesta ancora fuori dai playoff ma a questo punto non bisogna tanto badare al nome dell'avversario ma vedere una squadra che comincia a avere un'identità e soprattutto che ci metta il cuore che è mancato e questa è la cosa maggiormente preoccupante perché a questo punto forse i pareggi non servono più conviene giocare no assolutamente sono d'accordo con te anche coraggio nel giocarsi le partite con la testa giusta però adesso come dici giustamente l'avversario non conta devi andare a Frosinone sperando di fare una buona partita contro una squadra che secondo me sta rendendo meno rispetto a quello che può dare quindi questo può essere un piccolo vantaggio il Pescara ha bisogno di continuità ha bisogno di vincere qualche partita soprattutto all'inizio per cercare di ricreare un po' di entusiasmo la classifica nonostante i disastri è ancora lì che ti permette di poter lottare per non retrocedere a patto che non sbagli più noi abbiamo questo grave handicap da adesso in poi non possiamo più sbagliare come dicevano tutti è solo la speranza che in questo momento può tirare un po' su il morale per chi crede alle favole per chi crede alle speranze poi però c'è il presente e l'importante è che cambi il presente perché se no è veramente finita purtroppo è bello anche che nella tua casa di Milano ci sia quel gagliardetto credo che sia del Pescara alle tue spalle questo sempre Rigo sì 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 questo sempre bravo non dovrà prendere Pavanati la squadra del cuore non cambia mai Andrea mi sta dicendo una cosa su Pavanati no dicevo magari passerà Pavanati a Milano da Luca a prendere il gagliardetto no guarda guarda se passa e dovessi incontrarlo gli dico personalmente di stare il più lontano possibile da Pescara però forse sarei accontentato Luca perché menticasse Pescara forse sarei accontentato perché proseguono le trattative tra Pavanati e il Novara oggi c'è stata una video call ma c'è stata una fumata grigia stando alle parole dei protagonisti però venerdì a Milano negli studi di Pavanati nel pomeriggio ci sarà un incontro proprio tra persone fisiche quindi tra Pavanati il patrone attuale del Novara Russo anzi Rullo e quello precedente Rullo si incontreranno c'è la possibilità di chiudere venerdì pomeriggio negli studi di Pavanati potrebbe prendere il 100% delle quote del Novara però aggiunge Pavanati non precludo nulla ci potrebbero essere anche altre soluzioni sempre con Novara beato lui che ha voglia di sognare così come sogniamo noi una pronta ripresa di questo campionato Luca Cilli grazie da Milano un abbraccio a tutti grazie un abbraccio a tutti grazie Paolo Toro Francesco Di Francesca e Paolo De Leonardis ci vedremo lunedì prossimo grazie Andrea Costantini grazie a voi da qui in regia speriamo sempre speriamo lunedì prossimo di cambiare qualcosa grazie per averci scelto grazie a tutti grazie a tutti